buongiorno amici e amiche di nova news 24 ovviamente dopo quello che è successo nella casa del grande fratello prima la furia di perla con stefano e poi quello che è successo con beatrice ovviamente ha cambiato un po il clima della casa ieri i ragazzi sono stati un po tutti tesi ovviamente perla è scoppiata e perla ovviamente è entrata veramente molto pacate in questa casa è entrata in sordina e poi piano piano è esplosa e si è vista proprio ormai una perla che ha perso completamente le staffe sarà per mirko sarà per qualche altra cosa intanto perla sembra non farcela più a rimanere in quella casa e alfonso signorini potrebbe proprio intervenire ovviamente questa sera una grande puntata la situazione verrà ripresa in prima serata e alfonso signorini potrebbe decidere di ammonire in qualche modo verbalmente perla non pensiamo che si prenderà una decisione perché ovviamente le liti nella casa del grande fratello ci sono sempre stata e non c'è stato un qualcosa di grave che fa sì che insomma perla debba essere in qualche modo punita inoltre fino ad adesso le punizioni sono state veramente molto molto poche intanto proprio perla non avrebbe quindi infranto irregolamente non c'è nessun rischio per una squalifica ma sicuramente in puntata alfonso signorini ne riparlerà della situazione e ne vedremo sicuramente delle belle intanto proprio beatrice lei che sembrava essere più calma dopo l'uscita e il rientro nella casa si ritrova un'altra volta qualcuno contro ma sarà veramente lei oppure sono gli altri che ce l'hanno con lei questo ovviamente non lo sappiamo ditecelo voi amici di nuova news 24 cosa ne pensate voi se vi è piaciuto questo articolo mettete il pollice in su e seguiteci sempre su nuova news 24 ciao 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 ciao